Inaugurato il nuovo campo del Valpolicella in località Nassar, il progetto, partito oltre 5 anni fa, ha visto l'inizio lavori l'anno scorso e finalmente le giovanili della società potranno disporre del nuovo impianto. Costato oltre 300.000 euro, oltre al costo del terreno messo a disposizione dal comune di San Pietro in Cariano, l'impianto ha visto un notevole impegno organizzativo della società alla ricerca di contributi finanziari. La soddisfazione è grande perché effettivamente l'impianto è un gioiellino, è stato faticoso però in questo momento vedo che dà soddisfazioni e piace alla gente, è stato difficile da seguire anche economicamente, l'ha seguito più Giordano. Di solito sono le amministrazioni e il comune che fa gli impianti sportivi e poi magari li consegna alle società sportive. In questo caso abbiamo preso il pallino noi del Rugby Valpolicella, abbiamo seguito tutto l'iter dell'operazione, ne abbiamo anche sopportato i costi, per cui ovviamente con i contributi della regione e della Federazione Italiana Rugby stiamo aspettando anche un altro contributo per chiudere un po' il cerchio. Però diciamo che il comune si trova un impianto sportivo grazie all'impegno del Rugby Valpolicella. Noi abbiamo fatto una convenzione con il comune e quindi diciamo che da questo momento abbiamo 20 anni di utilizzo di questo campo e quindi la strada è ancora lunga. Consistente anche il contributo della regione Veneto, indirizzato a facilitare lo sport giovanile. Vedere un campo come questo, pieno di ragazzini che giocano al Rugby, uno sport meraviglioso e fatto anche con il contributo della regione, quindi con i soldi dei cittadini, in un momento in cui la politica non dà buoni esempi, è una grande soddisfazione.